buongiorno mi chiamo simeoni lorenzo abito a bergantino provincia di rovigo e ho 54 anni sono un semplice appassionato di cucina di pasticceria in genere con nozioni proprio basiche guardando su youtube tempo fa sono incappato in un video del maestro andrea di giglio dove venivano poi offerti vari corsi di pasticceria io devo dire che essendo alle prime armi pur avendo qualche nozione ho aderito volentieri al corso base perché ritengo che si debba iniziare dalle basi per poter poi costruire qualcosa di più grande per cui mi sono iscritto il corso base di pasticcereba devo dire che il corso è fatto veramente bene una lieta sorpresa sempre assistito durante il percorso dal maestro quale si possono sottoporre domande di vario genere se qualcuno ha dei dubbi e per cui sono corsi che consiglio vivamente solo anche magari per il gusto di approfondire le proprie conoscenze senza dover essere magari dei professionisti del settore degli chef insomma ecco basta essere degli appassionati avere del tempo devo dire che le video lezioni sono spiegate molto bene anzi hanno dissipato in alcuni casi qualche dubbio qualche perplessità che avevo in passato su come procedere per esempio nel nella stesura della nell'organizzazione si insomma nel creare la pasta frolla la pasta sfoglia o gli stessi cornetti o anche i corsans sfogliati che sono state poi le prime preparazioni che alle quali mi sono dedicato consiglio vivamente a tutti di o a qualsiasi insomma appassionato di iniziare un percorso col col maestro di giglio perché sono corsi veramente fatti bene consiglio arrivederci saluti